Non è possibile. E così siete qui per andare nella casa della palude? Voi credete nello spiritismo? Margaret Butler. La soprannominavano la dama in nero. Non dovete avere paura, lei non è così cattiva come dicono. Lei è solo tanto arrabbiata. Non andate più in quella casa. Andatevene. Finché siete in tempo. È sempre così. Nessuno ti crede.